La Fiat Panda Il bilancio è di quattro feriti, le tre persone a bordo della Polo che sono state portate al pronto soccorso di Chivasso per accertamenti e il conducente della Panda, ferito, che è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, non è in pericolo di vita. La dinamica è al valio dei carabinieri, il leso è il conducente del tir, qualche disagio al traffico veicolare. La Fiat Panda La Fiat Panda La Fiat Panda